musica e bella a tutti ragazzi qua è bazo che vi parla e oggi siamo su minecraft vanilla come potete osservare questa qua è la nuova nuova nuovissima farm di farm di ferro farm di ferro non ha ancora funzionato questo era il ferro che mi ero portato dietro perchè all'inizio volevo fare la iron titan ma quando mi sono accorto che i tutorial duravano tipo un'ora ciascuno ho detto faccio una farm di ferro normale intanto non mi serve così tanto ferro cioè almeno per adesso non mi serve così tanto ferro se vi chiedete dove ho preso i villager li ho presi wow mi hanno fatto scappare muore tu tu ah se vi chiedete da dove ho tirato fuori quest'arco allora è perchè quest'arco qua è un arco normalissimo semplicemente che i libri che ho utilizzato per incantarlo sono riuscito a pescarli avete capito bene li ho pescati quest'arco ha unbreaking 3 infinity flame e power 5 infinity flame e power 5 li ho trovati su uno mentre unbreaking 3 li ho trovati l'ho trovato su un altro libro cioè quelli la li ho trovati assieme mentre questi li ho trovati gli altri li ho trovati su uno singolo volevo uccidere quel golem lì ma non si avvicina anzi si però ho paura di far danno anche i villager si comunque i golem hanno un sacco di vita devo dire allora dov'è la prima fonte d'acqua andate in ferro no semplicemente adesso prendo la zappa che ho che cavolo così anzi perfetto poi qua dentro ce ne dovrebbero essere alcuni vediamo se è un minecart che così posso fisicamente entrare si non ho visto quanti ce ne sono dentro sono stupido no riprenditi il minecart uno solo ce ne è dentro perchè li ho esauriti tutti praticamente per la farm piccone ho dimenticato la farm di ferro ho esaurito tutti i villager che c'erano dentro ce ne erano dentro 11-12 li ho esauriti tutti praticamente per fare quella farm là che giuro che se non funziona uccido tutti perché sono più di 64 blocchi di distanza questi e ne sono pienamente certo vediamo se c'è qualcosa non c'è niente spero ci sia qua il mio piccone perchè allora significa che l'ho finito tanto non dovrebbe essere un problema con tutto questo robo qua che ho cioè c'è tutto sto ferro qua poi vi devo dare un'altra notizia oltre a questa farm voglio fare anche una farm quella per il cibo automatico ce l'avete presente quella normalissima del cibo automatico e a parte quello sto pensando ho trovato dei cavalli ne ho trovato uno che è praticamente in un villaggio super distante miliardi di anni luce da qua quindi ho scoperto quel villaggio perdendomi nel vero senso della parola mi sono perso e sono riuscito a trovare quel villaggio lì in cui era pieno di cavalli cioè tra un po' i villager andavano a cavallo cioè scherzo i villager non possono andare a cavallo però il cavallo è questo qua allora a tutti questi cuori in più gli ho aggiunto un'armatura di diamante che avevo nella cesta corre anche abbastanza veloce e salta anche 4 blocchi vedete questi sono 4 potete contarli voi 1 2 3 4 5 vedete no scusate 1 2 3 4 sono 4 blocchi facendo così salta tranquillamente 4 blocchi forse col massimo proprio tutto ecco così dovrebbe saltare anche 5 blocchi non così ma così dovrebbe saltare 5 blocchi se no proviamo subito comunque è comodissimo andare in giro a cavallo guardate quanto si va veloci praticamente si va ovunque ma non è il cavallo più forte che ho cioè nel senso questo qua corre salta quindi si è quello più forte che ho ma credo sia questo qua cioè praticamente ragazzi ha 26 cuori non so se vi rendete conto questo cavallo non può salire perché è talmente tanto scrauso che non riesce a saltare i 3 blocchi in cui ho messo i cavalli quindi in poche parole ogni volta che lo voglio far salire devo fare così mettere un blocco qua no scusate ma i due blocchi li deve per forza saltare se no che cavolo di cavallo ho preso ah ecco ok cioè in poche parole questo qua sarà il nostro cavallo da battaglia è invincibile questo qua ha praticamente abbastanza cuori da salvarlo in qualsiasi occasione anche se ci attacca un creeper lui non può morire perché comunque mettete che sia un creeper super energizzato quello che volete ma può fare al massimo 10 11 danno 11 cuori di danno però questo sono 26 non può ucciderlo una sola cosa almeno che non cade giù in un fosso profondo da sull'ia fin giù alla bedrock cosa cosa che io volevo fare come piccolo progetto cioè nel senso fare una specie di super fosso che saltavamo giù da 256 blocchi e si atterrava agli zero cioè nel senso proprio sulla bedrock precisa senza uccidersi ovviamente e con un meccanismo un po' complicato che devo vedere tutto un po' complesso ah scusatemi se manca la webcam ma purtroppo in questo momento non avevo la videocamera a mia disposizione quindi non ho potuto fare la webcam ho preferito non farla piuttosto che farla ma non di qualità perché di solito la mia webcam è 1080p per no si è 1080p full hd e quindi non mi andava di farlo soltanto in hd qua ci sono carote e un po' di slimeball la glowstone che mi è servita anche per fare la farm di di golem spero che funzioni perché se no uccido tutti ci ho impiegato un sacco a farla questo qua è il sentiero che porta in teoria fino a sopra questa montagna cioè un po' al portale del nether tutte queste robe qua qua si sale però non lasciamo salire poi qua ci sarebbe il portale del nether qui adesso non entro la c'è praticamente il progetto in costruzione ferma per eccellenza perché quello lì sarebbe il mob spawner quello a sette piani per intenderci e quindi sarebbe straforte tipo altro che iron titan per il ferro quella roba lì è una cosa micidiale e perché questi villager non si accoppiano e fanno quello che devono fare cioè tanti altri piccoli villagerini perché ci sono troppi villageri qua uccidiamo te uccidiamo un po' te che intanto tu sei un chierico no non fai il tuo lavoro tu sei un arpum eh però sto cosa qua è conveniente wow 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 fermi ragazzi stop sette smeraldi raga quindi si looting uno però fermo un secondo tu rimani qua che io vado un secondo a fare un saltino a casa mia bello bellino vado a casa prendo un 3 4 stack di carbone e poi ce li spammo a bestia tanto non credo che più di un tot accetta però se troviamo un altro di quegli arpum smith che fanno lo stesso scambio farmi un po' di smeraldi in questo modo comunque anche questo qua era una specie di episodio aggiornamento diciamo ah vi informo ho portato i due villager che ho portato fino là ho preso una barca perché dalla 1.9 si può fare sono andato al villaggio quello famosissimo nella sabbia che vista tipo a 15 minuti di cammino da qua e non sto scherzando ho preso la barca e l'ho portato fino a qua poi sono andato là riprendendo ovviamente la barca 1.2.3.4.5 aggiungiamo qualche altro stato di ferro va bene adesso dobbiamo trovare tutti gli Harpoon Smith villager che in poche parole ci farmiamo smeraldi per questo episodio è tutto ci vediamo alla prossima e ciao 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 ciao